Un decalogo per la creatività di Federico Faggin Siamo enti coscienti e creativi La coscienza è ciò che ci permette di conoscere noi stessi e il mondo Siamo il tutto che può conoscere se stesso da infiniti punti di vista Ciascuno di noi è una parte tutto perché è una parte indivisibile dal tutto che condivide le proprietà di uno Uno è la totalità di ciò che esiste La nostra essenza è profondamente creativa perché portiamo ad esistenza ciò che conosciamo per la prima volta La conoscenza di sé è un processo cooperativo e creativo Siamo mossi dal bisogno di conoscere noi stessi Lo facciamo comunicando e cooperando tra di noi e anche competendo Quando la competizione è onesta e rispettosa perché motivata dal voler esplorare idee diverse essa porta ad un avanzamento della conoscenza che è nell'interesse comune Quando la competizione è motivata dal bisogno di vincere e di essere superiori agli altri essa diventa distruttiva La vita è inerentemente creativa Gli organismi viventi sono creati dagli enti coscienti per avere esperienze in un mondo fisico che impone limiti al loro libero arbitrio L'organismo vivente è una struttura fisica quantistica e classica che è controllata dall'ente cosciente La creatività che tipicamente attribuiamo all'organismo proviene invece dalla coscienza e dal libero arbitrio dell'ente che ha il vero sé Noi non siamo il nostro corpo ma viviamo l'esperienza mediata dal corpo La creatività si manifesta come ispirazione L'idea creativa è una comunicazione del sé più vasto al nostro ego che è percepita come ispirazione L'ego è quella parte del sé più vasto che crede di essere il corpo fisico L'ispirazione è un lampo intuitivo che contiene l'essenza dell'idea creativa e la motivazione per capirla a fondo e per portarla a compimento L'ego è quindi spronato all'azione che porterà alla realizzazione e alla condivisione dell'idea L'ispirazione deve essere espressa simbolicamente per essere condivisa L'ispirazione è un'esperienza privata che per essere condivisa deve essere trasformata in informazione simbolica Il processo creativo che nasce dall'ispirazione deve sfociare in una realizzazione materiale sotto forma di parole suoni, immagini o costruzioni fisiche Questi sono simboli che comunicano il significato racchiuso nell'ispirazione La creatività è nella mente nelle emozioni e nelle azioni coraggiose La creatività non è esclusivamente un prodotto della mente anche se sembra nascere nella mente Essa è un prodotto congiunto dell'amore del coraggio e della determinazione necessaria al compimento dell'idea Un'invenzione, un quadro, un pezzo di musica, una poesia o un libro devono prima essere completati per avere un impatto sul mondo La creatività è un regalo che facciamo a noi stessi e al mondo Un computer non ha vera creatività La creatività del computer proviene dalla creatività dei suoi programmatori Non possiamo attribuire al computer capacità che non possiede Il computer non esiste come ente cosciente con libero arbitrio come siamo noi Lasciato a se stesso il computer è una nave senza timone Anche nel caso nostro, la creatività non proviene dal nostro corpo ma dalla coscienza e dal libero arbitrio che esistono in una realtà più vasta dell'organismo fisico Il progresso umano dipende dalla creatività La nostra storia brilla nei periodi in cui l'uomo ha portato nuove idee creative nel mondo Le idee più rivoluzionarie sono quelle che hanno cambiato la nostra idea di chi siamo in relazione all'universo Stiamo vivendo un periodo di crisi profonda perché dobbiamo fare un esame di coscienza e riconoscere che la nostra vera natura è stata offuscata dal materialismo che ha accecato il nostro cuore La creatività va coltivata e incoraggiata La creatività nasce e prospera nella libertà nel rispetto reciproco e nell'amore incondizionato per la virtute e canoscenza per citare le parole immortali di Dante Io penso che la virtute è rappresentata dall'amore e dal coraggio che devono ispirare il tipo di conoscenza che cerchiamo Se limitiamo la conoscenza a quella tecnologica con l'intenzione di avere un vantaggio competitivo nel senso di essere superiori agli altri corriamo verso il disastro La creatività ci riempie di soddisfazione Non c'è soddisfazione più grande di portare nuova luce sul mondo malgrado gli ostacoli e le difficoltà che si incontrano lungo il cammino Ciò è dovuto, secondo me, all'essere allineati completamente con la nostra missione più profonda Ogni atto creativo porta avanti l'agenda di uno di conoscere se stesso e di godere sempre di più della propria autorealizzazione Federico Faggin Fisico, inventore, imprenditore e autore italiano naturalizzato statunitense È stato il progettista del primo microchip commerciale L'Intel 4004 basato sulla tecnologia M.O.S. Silicon Gate da lui stesso ideata e realizzata nel 1968 La Synaptics, ditta da lui fondata nel 1986 ha realizzato le tecnologie del touchpad e del touchscreen che hanno rivoluzionato come interfacciare con i nostri dispositivi mobili Nato a Vicenza nel 1941 Faggin vive nella Silicon Valley, in California, dal 1968 Nel 1974 Faggin fondò l'azienda Zilog e dette vita al famoso microprocessore Z80 con miliardi di pezzi venduti fino ad oggi Fra le tante premiazioni, onorificenze e riconoscimenti ricevuti Faggin è stato insegnato del titolo di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana e del prestigioso The National Medal of Technology and Innovation che gli è tutta insegnata dal presidente Barack Obama alla Casa Bianca Nel 2011 Faggin ha fondato, assieme alla moglie, la Federico End Eldia Faggin Foundation per lo studio scientifico della coscienza Nel 2019 ha pubblicato la sua autobiografia intitolata Silicio Dall'invenzione del microprocessore alla nuova scienza della consapevolezza Faggin ha appena completato il suo secondo libro interamente dedicato alla natura della coscienza e della realtà Scusate ETT Andes